Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di LeonTrip, oggi siamo qui per questa settimana per andare a vedere il gioco gratuito che è disponibile sull'Epic Game Stores, si tratta di Mint, che non è un granché, però questo c'è, lo vediamo, facciamo una nuova partita, spiego brevemente, è un gioco dove praticamente dovremmo vivere la vita ogni 60 secondi, abbiamo 60 secondi di tempo per fare una determinata azione per poi salvarla, per poi riprendere dopo con altri 60 secondi e così via. Facciamo una nuova partita, partiamo da qua, all'inizio non c'è il tempo, si gioca con le frecce vado ad accendere il controller che faccio meglio, si gioca con le frecce direzionali X, Z, il gioco vedete che ha una grafica minimale, stile anni 70 e questo è insomma, allora noi dovremmo andare a prendere, noi ci troviamo a comandare questo papero andiamo a prendere questa, cosa qui, c'è tutto spada, perfetto, però la spada è maledetta, ok, quindi abbiamo adesso, adesso partono in 60 secondi come cercare di fare più cose possibili in 60 secondi, vabbè, se moriamo ripartiamo da capo quindi, ok, però vedete ci salva la spada, quindi abbiamo questa spada, adesso possiamo regolamente rompere queste foglie e proseguire da qua, qui dentro è buio, non ci si può andare qua non si può andare, bisogna andare da un'altra parte, sicuro allora, guarda di qua di qua c'è solo qualcuno si occupasse di quei 5 granchi, prima veniva molto più gente qui 5 granchi, questo si rompe, no ah, qua ce ne sono 3, vabbè, non ce la faremo mai più, quindi resettiamo, ragazzi andiamo a rifare tutto, allora qua ce ne sono 2, ok, no, e qua, qua, ok, andiamo da questo lato e qua ci sono gli altri 3 1, 2 e 3 poi là ci sono gli alabri di cifra, ho qualcosa per tagliarli la terra è meravigliosa, c'è un pesce sul terreno abbiamo ricevuto oggetto caffè, che non so cosa faccia ecco di un caffè gratis, ti farà spingere le casse ah, ok, parli della musica, ti ho la musica parli della musica vera, la vera musica vabbè sti cacchi, ciao ok, da guardare, vabbè niente, niente andiamo a vedere cosa c'è di qua, prima che scada il tempo ah, possiamo spingere queste casse, come ce l'avevo detto, ma non riusciamo a prendere la chiave va bene, ripartiremo da capo e ci andremo adesso quindi di qua su di qua che sta sta casse ok di qua facciamo sta roba prendiamo la chiave è ricevuto la chiave del faro va bene aspetta che il faro dice andiamo a cercarlo c'è l'acqua giù mi sembra un faro questo di qua che c'è qui? ce la faremo? acqua c'è l'oggetto torcia per cui possiamo andare là dove c'era il buio tipo andiamo vai allora, la torcia dove c'era? la cosa buia forse qua ma qua cosa c'è? innaffiatoio sto male lasciato la spada scusa mi frega dell'innaffiatoio eeeh quindi qua noi non ci possiamo andare là ho visto che c'era un buco per passare vedete qua ci sono delle scale aspetta 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 forse 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 di qua no qua c'è la mezz'estate io devo arrivare dall'altro lato dall'altro lato dovrebbe essere dell'altra schermata a starlo o niente eeeh dall'altro lato qua c'è il fiume come? qua non è aspettate un secondo qui c'è una cassa possiamo spostarla per andare di qua? è qua cazzo c'ho gli alcieri guardate di quei due vermi io apro il ponte e come faccio scusa con gli sputi? aia no eccolo qua vai qua serpentello serpentello niente bisogna evitare no cazzo dovrebbe evitare i serpentelli ok e b per ricominciare va bene andiamo qua ok ok e giù bene esciamo dall'altro lato c'è un toro da prendere con le corna qua prendo il toro per le corna uuuh toro ok abbiamo preso il cuore e vediamo se arriviamo dall'altro lato speriamo di sì e invece no bene perfetto allora ultimo tentativo miseria abbiamo sempre questi 60 secondi però che rompono le palle attenzione qua che ci sono i serpentelli abbiamo capito ormai dei must tu non li possa no basta 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 scusa è rotto posso andare qua giù un famoso produttore di cartella ah non posso andare qua giù perché c'è l'acqua bassa ma io qua ho visto scusate il seghetto quanto ci siete per cui lo spirito lancia le spade non lo posso perché mi sembrava tipo il seghetto quello del vabbè per tagliare gli alberi insomma quello di una volta attenzione va bene ripasso per di qua momento per avvertire le palle ok ok però può stare dove dove gli pare stiamo avanti per di qua roba campeggio del deserto vabbè del campeggio del deserto premiato produzione cartelli va bene nuova casa selezionata ok quindi vuol dire che ripartiremo da qua è tipo un checkpoint ci sono altre robe vedete negozi di scarpe il deserto non c'è mai niente ecco il mio negozio di scarpe solo 7 monete per un bel paio di scarpe rapide che mi servirebbero però cerca che vendiamo trovare queste monete alla fine dei conti il deserto senza fine eh no ma se è senza fine scusate se è deserto senza fine un motivo ci sarà invece c'è un oase attenzione lascia stare le piante le piante che non è proprio semplicissimo controllo aspetta un attimo ok 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 vabbè ma tipo il mio deserto senza fine che fine ha fatto qua questo è la mia oasi qua sotto qua sotto no di qua non voglio prendere le piante eh ma scompare cazzarola voglio vedere quella storia lì delle piante ma vabbè ragazzi non la vedremo tra l'altro non ho capito resetta resetta tra l'altro non ho capito che cavolo devo andare a prendere queste monete devo andare qua su qua c'era il negozio di scarpe niente c'è il deserto non ci siamo andati scusate non ci siamo andati qua giù eh non ci siamo andati tempio segreto persona smarrita qualcuno può aiutarla oh non so ah sempre giù sei tu la persona smarrita acqua da una spadata va bene lo stesso perché a me non so io è acqua porca miseria c'è 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 una valangata qua niente è acqua bene andiamo indietro e andiamo a vedere questa cosa tempio segreto ah c'è il fuoco non si passa si passa si beh se è segreto che cavolo devo farci qua scusa qua c'è buio forse mi serve qualcosa per passare di qua ma non ho capito cosa in realtà hai perso i miei tentacoli mi aiuteresti i tuoi tentacoli eeeh no chi l'aiuta questo i tuoi tentacoli ragazzi va bene questo ragazzi era il gioco gratuito oggi su game store per tutta la settimana non importa se non l'avete anche non è necessario secondo me vabbè meccanica interessante però la lunga rompe le palle insomma perché dovete sempre ricominciare dall'inizio eeeh non piace molto insomma poi ha diciamo questa grafica minimale che io non sono molto per la grafica nei videogiochi però insomma questa settimana devo dire che mi aspettavo qualcosa di un po' più diciamo moderno rispetto a un gioco che ha uno stile tipo anni 70 vabbè comunque ci può stare anche questo è comunque gratuito se lo volete provare provatelo intanto io vi saluto vi do appuntamento alla settimana prossima che dovrebbe essere qualcosa di molto più interessante non vi anticipo niente ma ci vediamo la prossima settimana dalle note è per tutto ragazzi commenti like condivisioni al video e ci vediamo alla prossima ciao raga ciao